Mister Iacono, ritorna nella Mazzarezza, ci c'era lasciati un po' freddamenti? No, non ritorno, c'era ma c'era da esterno perché ho dato sempre il mio contributo alla Mazzarezza. Si torna ad essere ora in prima linea e si torna con la voglia che c'era l'anno scorso. Non ci siamo lasciati freddi per niente perché se ci eravamo lasciati freddi sicuramente non avrei dato una mano all'esterno durante il periodo estivo per quello che ho potuto fare. Si c'è vicino al carciomercato, hai chiesto qualcosa al Presidente? Loro sanno la società, è una società competente, c'è il direttore sportivo e tanti altri amici che sanno cos'è il calcio, loro sanno quello che manca, si stanno attivando per vedere se possiamo mettere qualcuno al posto giusto dove manca magari qualcuno che è andato via. Gli obiettivi della Mazzarezza adesso quali sono? Gli obiettivi sono quelli di intanto riuscire a prendere qualche giocatore che ci manca. Vediamo la rosa come sarà composta e di quanti elementi saremo, dopodiché vedremo dove possiamo arrivare. Ma dirlo oggi quello che possiamo fare non lo so perché il calciomercato oggi è difficile farlo a dicembre. Non è come si può fare a giugno che i calciatori sono liberi. Ora dipendo dalla società e credo che i giocatori buoni che hanno le società e che vogliono vincere credo che non li danno a nessuno, mi sembra legittimo. Noi dobbiamo vedere quello che dobbiamo fare però non tratteniamo nessuno. Chi vuole andare via può andare via da noi e di conseguenza dobbiamo poi essere bravi andare a ricucire quel buco che ci è rimasto mettendo dentro qualche altro. Questo avvicinamento con il Mazzara Calcio è un'eventuale fusione. Come lo vede? Ma sicuramente tanto tempo fa sono stato l'artefice di fare una fusione tra Mazzara 2000 e Mazzara. Ci sono riuscito, l'ho messo insieme, abbiamo fatto una squadra a Mazzara unica, abbiamo vinto il campionato di eccellenza e siamo andati indietro. Sicuramente è una cosa positiva però penso che per fare un'unica società ci vogliono che tutti siano concordi a determinate cose e che nessuno mette dei punti fermi che si vuole essere tutti i protagonisti, c'è chi vuole fare il presidente obbligatamente, c'è chi vuole fare l'allenatore. In questo modo non si può ragionare sicuramente. C'è di vedere la crescita dello sport in città e per fare questo sicuramente la Mazzara si è messa a disposizione. Dall'altra parte io non lo so, non ho partecipato sicuramente, lo sanno chi ha partecipato. Dico che prima devono essere tutti tanti punti fermi che vuole mettere qualcuno e che invece si deve ragionare in prospettiva e per il bene di tutti. Io sono stato anche capace negli anni in passato a mettermi anche da parte quando le cose non andavano bene. Sicuramente quando siamo andati in D, primo anno ci siamo salvati, secondo anno le cose non sono andate bene, sono andate in società e ho dato le mie dimissioni. Ma si deve essere coscienti di quello che ognuno di noi può dare. Se siamo presuntuosi sicuramente il futuro non sarà mai di nessuno.